Buonasera e benvenuti a Roma nella sala dedicata all'estrazione del Super Enalotto. Chi possiede oggi, martedì 21 aprile, la ricevuta della giocata del Super Enalotto può vincere 7.827.266 euro. Le operazioni relative al concorso numero 48 sono iniziate, le 90 sfere numerate per la sestina vincente e il numero jolly sono state caricate e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo il via all'estrazione di questa sera. Le sfere sono scese nell'urna elettronica e inizia il loro mescolamento automatico. Andiamo a scoprire il primo numero della sestina vincente. Il primo numero estratto è il numero 52. Il secondo numero di questa sera sta arrivando. Il secondo numero estratto è il numero 4. Ed ora siamo al terzo numero, con il Super Enalotto già vinci con 3 punti. Il terzo numero estratto è il numero 67. È il momento del quarto numero che ci porta verso premi importanti. Il quarto numero estratto è il numero 17. Il quinto numero è il penultimo numero. Il quinto numero estratto è il numero 84. Con l'ultimo numero la sestina vincente di questa sera sarà completa. Il sesto numero estratto è il numero 59. Abbiamo i sei numeri che possono assegnare il jetpot. Passiamo ora all'estrazione del numero jolly per l'attribuzione dei premi di seconda categoria. Il numero jolly di questa sera è il numero 88. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly. Quindi 52, 4, 67, 17, 84, 59, numero jolly 88. E passiamo ora al numero superstar, il numero che potete scegliere voi o che vi viene assegnato casualmente dal terminale di gioco. Già al momento della convalida della giocata può far vincere premi istantanei da 5 a 10 mila euro. La sua estrazione avverrà grazie a questa seconda urna elettronica caricata con sfere dall'1 al 90. E procediamo con l'ultima estrazione di questa sera e vi ricordo che il numero superstar premia anche lo 0, l'1 e il 2 e moltiplica 25 volte le vincite del 5, 100 volte quelle del 4 e del 3. Il numero superstar di questa sera è il numero 13. Ricontrolliamo insieme tutti i numeri del concorso 48 del super enalotto con la sestina vincente in ordine crescente. 4, 17, 52, 59, 67, 84, numero jolly 88, numero superstar 13. E l'estrazione di oggi martedì 21 aprile è terminata. Tra pochi minuti scopriremo insieme se il jetpot di oltre 7 milioni e 800 mila euro è stato assegnato a uno o più vincitori. Vi aspetto qui su Sisal TV, la rete in diretta con la fortuna. Ben ritrovati qui su Sisal TV, la rete in diretta con la fortuna. Poco fa abbiamo seguito l'estrazione dei numeri vincenti del concorso 48 che vi ricordo ha messo in paglia il jetpot di oltre 7 milioni e 800 mila euro. Anche questa sera il super enalotto ha per voi numerosissimi premi. Abbiamo infatti 71 mila novecento e ventotto vincite. Ma è il momento di scoprire insieme se il jetpot è stato assegnato a uno o più vincitori. E il computer ci comunica che non è stato realizzato il 6 nel 5 più 1. I 5 sono 3 e vincono 63 mila 600 euro ciascuno. I 4 sono 558 e vincono 344 euro ciascuno. I 3 sono 22 mila 162 e vincono 17 euro ciascuno. Passiamo ora a Superstar, il numero stella che premia anche lo 0 nel 2 e moltiplica le vincite del 5, 4 e 3. Entriamo nel dettaglio e vediamo tutte le quote. Nessun 5 stella, i 4 stella sono 3 e vincono 34 mila 494 euro ciascuno. I 3 stella sono 141 e vincono 1729 euro ciascuno. 100 euro vanno ai 2351 due stella. 10 euro vanno ai 15 mila 345 uno stella. 5 euro vanno ai 31.365 zero stella. Andiamo insieme a scoprire il jetpot del prossimo concorso. 8 milioni 200 mila euro. Grazie per essere stati qui con noi. Il Supremo Lotto vi dà appuntamento a giovedì 23 aprile, sempre qui su Sisal TV, la rete in diretta con la fortuna. Grazie. 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 Grazie a tutti.